Musica Ciao a tutti lupi del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video Allora, sapete cosa è successo? Ho registrato ben dieci minuti di video Senza registrare, ho premuto il tasto di Fraps per registrare, ma Fraps non l'ha registrato Fraps io ti odio, mi fai sempre queste cose, io ti detesto, ti odio, lo capisci? Dovrei cambiare programma per registrare Voglio prendere action, penso che lo cambierò Non lo so, perché Fraps mi sta facendo davvero dannare in questi giorni Ah, allora, prima di cominciare il video e di dirvi cos'è che sto facendo Di ricominciare il video, perché l'avevo già registrato, ma vabbè Prima di ricominciare il video e di dirvi cosa sto facendo, vi dico un paio di cose Allora, molti di voi non cagano i link che stanno in descrizione Ma i link che stanno in descrizione sono davvero, 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 davvero importanti Perché? Perché prima ho la pagina Facebook, mia pagina Facebook dove lascio tutti gli aggiornamenti vari Tutte le cose che faccio, che dico, tutti i contest vari, io li lascio lì E posto anche foto con i fan, screen fatti su server, eccetera, eccetera Le lascio tutte lì, quindi andate a mettere mi piace alla pagina Facebook Secondo, c'è il mio profilo Instagram, dove carico sempre foto mie Anche a volte, quando avrò abbastanza fan che mi seguono su Instagram Caricherò anche foto di aggiornamenti video e cose varie O anche foto con i fan, quando incontrerò i fan e cose varie E poi c'è il link per scaricarvi le mie due app Un'app per Android, fatta malissimo, ve lo dico Dove ci sono tutte le mie informazioni e robe varie Per Android, fatta anche con la mia vecchia grafica, che pochi di voi ricorderanno E infine, quella per Chrome, l'app per Google Chrome Che praticamente ogni volta non è ingombrante Praticamente esce soltanto la mia immaginetta in alto a sinistra, piccolissima E quando carico un video, l'immaginetta diventa rossa E con una notifica, praticamente vi esce la notifica del mio video E per migliorare i feed, ecco, perché i feed di YouTube fanno schifo E con questa app si migliorano i feed Sembrano delle tombe, ste robe Che cosa guardi tu? Che cosa guardi, bel cavallone? Cosa guardi, cavallone? Bel cavallone Ok, basta Cicciolina mod off Quindi Sulla pagina Facebook ho chiesto Ragazzi, chi di voi riuscirà a trovarmi su Akinator? Che è un gioco che penso che tutti conoscerete Online, gratis Che praticamente tu pensi ad un personaggio Akinator ti fa delle domande E tu devi indovinare Lui deve indovinare a chi stai pensando attraverso le domande A cui tu rispondi È molto divertente Ci sono persone che sono riuscite a trovarmi E queste persone sono Ve lo dico subito Allora Jackie Jack Non so se si pronuncia così Spero di sì Perché sennò faccio una bella brutta figura Bella brutta figura Non ha senso E aspettate che vi dico gli altri nomi Devo trovarli Stanno sulla pagina Facebook One second please One second please 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 Un secondo Per favore Un secondino piccolino Poi Unriccio HD Mi ha anche trovato Poi mi ha trovato Galaxy Glaze E mi hanno trovato Galaxy Glaze E Tizzeventi Vi ringrazio ragazzi E anche Basta penso Mi sa solo loro Quindi vi ringrazio Per aver partecipato Tra virgoletta A questo mini contest E vi invito Ancora A chi non è ancora Messo mi piace Di andare a mettere Mi piace Alla pagina Facebook Perché appunto Alla rilascio tutte le news Le news Allora Cosa sto facendo Praticamente Non sono andata molto avanti Cioè Queste cose le ho fatte tutte In camera prima Però Non ho registrato Maledizione Speriamo che adesso Mi sia registrato Ok Questa è la storie di area Ho iniziato a fare la storie di area Qui ho Il vetro per fare la serra E adesso Stavo costruendo La La stalla per i cavalli Ah Una cosa che posso fare Devo prendere il secchio A meno che Sì ce l'ho Secchio e biscotti Per fare Una delle Una delle Degli obiettivi Che dice Prendi Del latte E dei biscotti Quindi Prendo ora I biscotti Che ho messo qui E vado a prendere Il latte Dalle mucche Che ho nella stalla Le mie mughine Le mie mughine Carine e belline Quindi Poi magari Mi consigliate Vi avevo chiesto Prima di scrivermi Nei commenti Di scrivermi Nei commenti Come si Come si fa A copiare i cavalli Perché io Sinceramente Non lo ricordo O meglio Non ho mai fatto A copiare dei cavalli Perché non ho mai avuto bisogno Da dove cavolo Ora tu mi spieghi Come hai fatto A sponarti lassù Lo voglio capire No Non colpire Le mie mucche Non colpire Le mie mucche Maledetto bastardo Hai droppato qualcosa Che non ho No Hai droppato Cioè l'ho preso Tutto quello Che hai droppato Allora Non voglio la mappa Livati Ok allora Prendiamo le patate Le patate sono sempre utili Viva le patate Allora Non so che state cambiando male Ma Siete i soliti Porcellini Nini XD XD Mi piace La cacca Allora La cacca è molto bella Dette queste stronzate Assurde Vi volevo chiedere Voi preferite Quando gioco in single player O in multiplayer Perché a me piace Fare video in multiplayer E in single player A volte mi sento Oh devo andare a dormire Devo correre Devo andare a dormire Altrimenti ci sponano i mostri Non ho capito come Nei tracenti degli animali Perché Non lo so Non so A me piace fare video in multiplayer In single player A volte mi sento un po' a disagio Non so di cosa parlare Però sono logorroica Quindi alla fine Di cosa parlare Lo trovo sempre Però ditemelo voi Preferite quando faccio video in single player O in multiplayer Dan 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 Boh sono curiosa Ora Andiamo a ripiantare sta roba E poi continuiamo la stalla Forse Ah si doveva avere del milk E dei biscotti Ecco perché sono andata lì Non per coltivare Che idiota Faccio le cose E poi me ne dimentico Allora Dammi un po' del tuo latte Donna Anzi Dammi un po' del tuo latte Mucca Ok Beviamo No 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 Oh Latte Biscotti Ecco Completato Un altro obiettivo Poi lasciamo Mettiamo a fare Questo Perché Mi servirà molto grano Tantissimo grano Mi servirà Per Per i cavalli Per fare le cose dei cavalli La Come si chiamano Non ho idea Le Le balle di fieno Ecco Che anche vorrei mettere Anche qua sopra Per fare un po' più di scena Non so mi piace l'idea Di mettere lì su Dei Delle balle di fieno In stile In stile Tunze tunze Daie daie Quindi Qua stavo praticamente Dovevo finire La La stalla Qua volevo mettere Questi blocchi Perché mi piacciono di più Da mettere agli angoli Mi piacciono questi blocchi Da mettere agli angoli E poi dovevo fare altre Fences 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 Quindi facciamo altre Fences 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 Funky Funky Ok 17 Padranno bastare Sicuramente Ho fatto Un bel po' Di Fences Fences Possibile che mi sia rimasto Così Fences Vabbè E vabbè E vabbè Così volevo fare Quindi Un'altra qua Qui niente E poi un'altra qua E mi serve Che cavolo Che cos'è scuro qui Mamma mia Non so se si fosse di nuovo Facendo notte Allora Devo portarmi anche una pala Ma come al solito Dimentico tutto Cioè Posso prepararmele Così invece no Devo per forza Dimenticarmi Qualsiasi cosa No Qua va questo Ma che idiota che sono Madonna Poi devo levare Anche all'interno Tutta quella neve Perché i cavalli Poi stanno scomodi Tutta quella neve Là dentro Ok Poi qua metterò Penso dei Fences Gate E quando Quando riuscirò A togliere Dei Fences Gai No Quando riuscirò A togliere Tutta sta neve Da qua Magari Con una pala Una pala decente Oddio Si era bloccata La sera Io ho fatto La stupidaggine Ah Volevo dirvi Oggi mi dovrebbero Arrivare le cosce nuove Quindi da D'ora in poi Sentirete un audio Migliore Cioè Penso il prossimo video Sentirete un audio Migliore Questo di sicuro Farà schifo Perché sto usando Il microfono Scrauso E dai Non bloccarti Oh maledizione Intanto mi si blocca La tastiera Perché come un idiota Tastiera Come un idiota Ho preso La tastiera Wireless Ok Perché Boh Mi piaceva di più Quelle non wireless Non mi fanno impazzire Però Mi rendo conto Che è stata Una scemenza Una scemenza Bella e buona Più bella Che buona Però vabbè Vabbè Sì dai Facciamoli tutti Ma chi se ne frega Perché se non avrei dovuto Facciamoli tutti Allora Facciamo così 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 Tutto intorno Per il momento Faccio Solo di due La stalla Solo di due posti Perché ho due cavalli E non so nemmeno come Come si 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 da da mangiare A questi due poveri cavallini Se io faccio No qui lo lascio libero Va Si Si Qui lo lascio libero Perché Non mi piace poi Che chiude Così Ok Però poi è brutto Che qua sopra non c'è Vabbè Poi lo metterò qualcosa lì Oh Ho già finito le Ho già finito le Maledizione Dai qua Ok Vai Mamma mia che parkourera Ho già finito le Le cose Le 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 Fatte qui Ora facciamone delle altre Ah ma ce le ho Che idiota Ce l'ho il coso Ce l'ho Le 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 Vediamo se No Abbastanza per farne un altro Ebbene si Ok Dovrei farcela con questi A fare un altro contorno Penso Spero Altrimenti sono fottuta Allora Facciamo così Vediamo un attimo Non mi fa impazzire Che qua rimane Ok Non so da dove vieni Ma non mi interessa Perché mi fanno schifo i ragni Anche quelli di minecraft Non li sopporto Cioè io non sono Ragnofobica Però mi fanno schifo Gli Cioè Non mi fanno paura Gli insetti E robe varie Però mi fanno schifo Ok piccola interruzione Comunque dicevo Mi fanno schifo Gli insetti in genere Allora Vediamo un attimo Di fare così Non voglio fare un tetto Troppo alto E dato che La costruzione è grande Verrebbe Altissimo E se facessi Così Così qui Questo ragno Ha già rotto le palle Ma vabbè Non si dice Non si dicono le cattive parole E nemmeno i ragni Anche se non so dov'è Credo che sia là sopra Perché Non so perché si spona Roba Roba Non identificata Ok Ho sentito qualcosa Fantastico C'è anche che non si caricano Ok Vabbè Lascio un attimo Il tetto incompleto E inizio a metterci I cavalli dentro Allora Vieni qua tu Ecco Un attimo Che devo prendere Questa fence Ah no Ce le ho le fence Ce le ho qui dentro Vieni qua cavallino Metti qui E poi Qua Ok Ok Scusate se il video Si interrompe qua Ma ho avuto Alcuni problemi E quindi ho dovuto finirlo Mi dispiace perché In questo episodio Non ho fatto quasi niente Non ho nemmeno finito la stalla Però vi ho fatto vedere un po' Cosa ho fatto Diciamo che era più Un video aggiornamento Che un video vero e proprio Mi dispiace tantissimo Se volete che continui questa serie Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Lasciate tanti mi piace In questo momento Adesso Subito Se non lasciate mi piace Siete delle brutte persone Ok Avete lasciato mi piace Me lo sento Quindi noi ci vediamo Nel prossimo video Mi dispiace Vi prometto che nel prossimo Farò di più Ma purtroppo ho avuto Dei problemi Ho dovuto interrompere Il video all'improvviso Comunque Spero Ripeto Spero che il video Vi sia piaciuto Noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Lasci quando serve Allora Lì ci sono degli zombie Io cerco di No Queste sono entrambe vuote Quindi niente Pensavo si potessero Esatto Non si aprono neanche No Perché sono proprio vuote Ah la cosa bella Di questo minigame È che non c'è il pvp Quindi non ci si può Uccidere tra di noi Ciao a tutti Ciao a tutti